Oggi arricanati dalla Aiguzzini a scegliere lampioni per la nuova piazza Duomo alla ricerca di un prodotto che coniughe efficienza energetica, efficienza cromatica, sostenibilità e soprattutto bellezza. Questo visto dal vivo è davvero stupendo. Un post messo sui social dal vice sindaco Raffaele Daniele nei giorni scorsi ha scatenato un putiferio di commenti. In realtà il vice sindaco non ha detto espressamente che quello indicato nella foto è lampione scelto, ma il modello non è piaciuto affatto alla maggior parte della città, che si è scatenata in un acceso dibattito social per la paura che alla fine si arrivi a scegliere una cosa simile per la storica piazza per la quale sono in corso i lavori di restyling. Subito si sono scatenate vignette e meme. Molti consiglieri comunali di opposizione hanno paragonato i lampioni fotografati a docce o pale da pizzaiolo. Fatto sta che il modello non è piaciuto e sono venute fuori anche delle petizioni online Salviamo Piazza Duomo, proprio per evitare che alla fine si vada a scegliere un prodotto simile. Alcuni aquilani hanno fatto riferimento al progetto iniziale della piazza firmato dall'architetto Giuseppe Santoro, che scelse caratteristici lampioni stile Liberty, rievocativi della bella epoca aquilana in continuità con l'illuminazione dei portici di Piazza Palazzo. Il comune oggi si è affidato a una ditta marchigiana per la fornitura dei nuovi lampioni e lo stile, se davvero sarà questo, alla maggior parte delle persone non piace. In molti hanno lasciato commenti proprio sulla pagina ufficiale del vice sindaco. Alcuni sostengono però che visti dal vivo sono davvero bellissimi, altri che non vanno bene per una città come l'Aquila. Diversi sostengono che da città di montagna si sta passando a una città di mare, prima la pietra bianca del corso, ora le lampioni che sembrano docce. L'ironia insomma corre sul web e non si arresta. In tanti però hanno chiesto all'amministrazione di essere coinvolti, magari con un dibattito allargato, visto che si tratta di scelte di grande impatto. Per Daniele lo stesso modello si trova nella reggia di Venaria a Torino, a dimostrazione che il prodotto si sposa con il classico. Insomma, critiche rispedite al mittente, con la rassicurazione che la tipologia scelta si integrerà in maniera armonica con l'ambiente rinnovato della piazza. Per quel che riguarda i lavori sulla piazza, invece, questi vanno avanti, sembra un po' a rilento sul lato dei negozi, ma il maltempo evidentemente sta condizionando non poco le operazioni, mentre più speditamente si procede sul corso, dove sta iniziando un secondo tratto in modo abbastanza veloce.